Da venerdì 28 luglio per l'intero fine settimana tornano le streghe della valle Antigorio a Croveo di Baceno. Conferenze, laboratori, documentari, concerti e spettacoli per la non edizione dell'evento che rievoca il fenomeno della stregoneria tra queste montagne, oggi una delle feste più amate dell'estate della Val d'Ossola. L'inquisizione tra il 1500 e il 1600 portò qui a rogo molte donne accusate di praticare riti demoniaci. La manifestazione diventa momento sociale ma anche rivisitazione storica ed occasione per approfondire una tematica che conserva luci ed ombre. Così a fianco dei curati allestimenti nelle vie della frazione di attività pensate per far conoscere le antiche tradizioni in un territorio di montagna e di un punto di ristoro con specialità gastronomiche locali, l'evento propone incontri, convegni e documentari che investigano l'aspetto più scientifico legato alla storia della stregoneria in Val d'Ossola. Nelle vie del paese una mostra fotografica a cielo aperto con immagini del borgo e dei suoi abitanti e il mosaico Giovanna La Fiora donato lo scorso anno dal maestro sardo Gianni Basciu. Le streghe della Valle Antigorio 2023 prende avvio la sera di venerdì 28 luglio con l'esibizione musicale della fanfara Bersaglieri Val d'Ossola, prosegue poi nel pomeriggio e sera di sabato e nell'intera giornata e serata di domenica. Non mancheranno esibizioni di musica itinerante per le vie del paese, lezioni di yoga per adulti e bambini, escursioni sul territorio, originali laboratori, un mercatino a tema e giochi per i più piccoli. Le streghe della Valle Antigorio è un evento organizzato dall'Associazione Streghe di Crovio in collaborazione con il Gruppo Giovani di Crovio, il Comune e la Proloco di Baceno e con il fondamentale aiuto degli abitanti e dei volontari della comunità di Crovio.